Madri inseparabili che cucinano piatti tradizionali, amano la loro lingua, i loro cibi, i loro sapori e figlie che si sentono americane fino in fondo e cercano di conciliare le origini con la cultura occidentale. Fra la forza delle tradizioni e il fascino del presente Un romanzo che indaga il legame profondo fra madri e figlie Un romanzo tutto da gustare al sapore di Carrie e Coriandolo I segreti delle spose indiane di Monica Pradhan